L'edizione di quest'anno va avanti per la grinta, la forza e la voglia di ricominciare sicuramente. Vanno segnalate due cose importanti. La prima è che siamo in assenza totale di sponsor, perché abbiamo pensato anche di non gravare e non agire sulle tasche dei locali che contribuiscono di solito alla festa. Le attività locali, come sappiamo, vengono non solo dall'emergenza diretta, ma anche quella indiretta economica. Di conseguenza ci siamo rimboccati le maniche e questa cosa continua ad andare avanti grazie alla volontà di tutti. La formula sarà lievemente ridotta in termini di servizi, perché purtroppo non potremo avere gli autobus, in quanto sarebbe folle immaginare di verificare Green Pass per far salire la gente su degli autobus. Di conseguenza abbiamo deciso che quest'anno la notte bianca sarà a piedi, anche perché dobbiamo far vedere alla gente che ormai le ciclabili sono una realtà estremamente consolidata. Va segnalato che noi credo che siamo stati il primo comune ad avere la ciclabile in tutta la provincia. Quindi andiamo avanti verso questa storia e portando la gente a piedi attraverso la città, facciamo usufruire appunto del servizio della pista e in estrema sicurezza, anche perché adesso la pista sul ponte è a posto e di conseguenza ci si potrà spostare famiglie, ragazzi e anche più anziani attraverso le ciclabili in estrema tranquillità. Le aree sono tutte collegate da percorsi ciclopedonali, quindi senza nemmeno lambire la strada per una volta e appunto questo ci permette di fare questa nuova formula. Quindi evitando gli autobus, evitando situazioni di assembramento, andiamo attraverso la città nel miglior modo possibile, cioè a piedi. Oltre alla riduzione del servizio dei mezzi, il resto è tutto come prima, cioè ogni attività propone la sua cena, il suo intrattenimento, i negozi saranno aperti. Ovviamente la possibilità rimane sempre quella fino a mezzanotte, poi dopo ognuno può liberamente scegliere di chiudere un po' prima se pensa che sia necessario. Chiediamo alla gente, se possibile, quando ha identificato il posto, di verificare la prenotazione perché anche le cene e gli eventi per lo più dovranno seguire i canoni di prenotazione. Non è estremamente rigida questa cosa perché se su uno spazio abbiamo dei posti disponibili e senza prenotati, sicuramente la gente potrà accedere e comunque utilizzare quegli spazi senza bisogno di prenotazione. C'è bisogno di ripartire con grinta, con forza, con energia, nel rispetto delle regole, insieme all'associazione e all'attività commerciale, ai commercianti della città di Vallefoglia, a piedi in un percorso anche più carino perché insomma la pista ciclopedonale, collega, montecchio, bottiglia, morciola, un po' tutt'uno. E poi insomma è un modo anche per diciamo vivacizzare ancora di più e dare una chance in più alle attività commerciali, alle attività diciamo economiche e produttive che hanno subito un anno duro, difficile, che va superato quanto prima. Noi faremo di tutto perché insomma si mantengano le regole, la collaborazione con Giovanni e con l'associazione e con i commercianti è di perfetta sintonia e quindi crediamo che possa avere un buon successo.